Natalia Moskal è una cantautrice, cantante autrice di testi, traduttrice di origine polacca, che vive a Milano. Buongiorno innanzitutto per tutti i lettori di ZTL Magazine. Ciao Natalia. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, è appena uscito, è online anche il video, ma è uscito il 4 giugno, il tuo singolo The Risa Star. Il singolo è Guarda la Luna, però l'album si chiama The Risa Star. Giusto, giusto, assolutamente. Ecco, Guarda la Luna, che è il singolo estratto dall'album appunto The Risa Star, che è un progetto dedicato a canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana e internazionale degli anni 50-60. Ecco, è curiosa questa scelta. Spiegaci come mai ti sei appassionata così tanto a questo periodo, questi due decenni. In realtà io amavo tutte le cose retro da quanto avevo magari, non so, 15 anni. Mi piacciono tutte le cose vintage, tutte le cose dai anni 50-60, ma anche prima. Io amo la letteratura degli anni 20-30, piuttosto la letteratura americana, quindi è una cosa che mi piace. Ma poi dopo, quando mi sono trasferita in Italia, non volevo lasciare la musica qua in Polonia, non volevo smettere di fare la musica. Quindi pensavo del progetto che potrei fare, che sarebbe il mio primo progetto in Italia e in italiano. In realtà sono uscita con due cover prima e con un singolo che si chiama Imperfetta prima, che era un singolo che ho presentato durante l'area Sanremo, tre anni fa, però poi dopo ho registrato questo album che si chiama The Resistar, perché volevo prima uscire con le canzoni che sono importanti per voi italiani, che voi conoscete, che vi piacciono e fare qualche omaggio alla cultura italiana, che anche a me piace tantissimo, io amo vivere in Italia. Quindi mi è venuta questa idea di fare le canzoni, che in realtà tutte le canzoni su questo album sono le canzoni di Sofia Loren, vengono piuttosto dei suoi film, dei anni 50-60, ma non solo. Quindi sono 14 tracce registrate di nuovo con l'orchestra, con i nuovi arrangiamenti che ho cantato io. Quindi non lo so, potete ascoltare tutto su YouTube, tutte le piattaforme di streaming. Ecco, un omaggio alla musica italiana e anche al cinema. Qual è il tuo rapporto anche con il cinema? Trovi che possa dare ispirazione anche per nuove canzoni? Sì, in realtà recentemente il cinema mi piace di più, quindi io non so perché, ma ho cominciato a guardare tantissimi film e poi dopo questi due ultimi video musicali che abbiamo registrato sono i video, diciamo, un po' come un film noir, quindi c'è una storia dietro, eccetera, non è solo che io sono lì e canto, ma c'è una storia. Di recente ho cominciato a pensare che magari mi piacerebbe anche provare a essere in qualche film, non so, dovrei andare probabilmente a qualche scuola di, non so come si dice, a dei attori per dire di parlare. Sì, esatto. Però mi interessa un po', quindi è una cosa strana perché non ho mai avuto questa idea e adesso mi è venuta. Però vediamo, adesso ho provato con questi due video di cui sto parlando, quindi Tu vuoi fare l'americano e Guarda la luna, che sono due parti della stessa storia, quindi prima si deve guardare Tu vuoi fare l'americano e poi dopo Guarda la luna perché è una continuazione, è un sequel. Quindi il cinema mi ispira tantissimo, piuttosto recentemente, e come ho detto, probabilmente i miei prossimi progetti musicali saranno ispirati dal cinema anche. Sì. Ecco, quindi hai già iniziato in qualche modo a creare appunto un prequel e un sequel, quindi c'è già un po' di cinema anche nella tua musica. Ecco, invece per quanto riguarda proprio i testi che scrivi tu, c'è già qualcosa in italiano, stai scrivendo qualcosa, come sarà, come lo vedi il tuo futuro da cantante ma anche cantautrice? Sì, io prima di questo album ho pubblicato l'album con le canzoni miei, che si chiamava Songs of Myself, però tutte le canzoni erano in inglese. Adesso sto scrivendo le canzoni nuove, sono in italiano, però non è che io scrivo i testi in inglese e poi dopo mi incontro con i miei amici italiani e mi aiutano con i testi, con la traduzione in italiano, perché il mio italiano non è ancora abbastanza, non so, buono per scrivere la poesia, i testi, che in realtà i testi delle canzoni sono un po' come una poesia, quindi qualche persona deve aiutarmi, però io vorrei uscire con le canzoni in italiano, anzi, canzoni inediti, quindi ho già cominciato, vediamo come andrà, però sono convinta che voglio uscire con l'album e con i prossimi singoli in italiano, sì. E cosa ami più dell'Italia? Ah, tantissime cose! Sai, l'Italia è completamente diversa dalla Polonia, quindi il modo di vivere, il modo di, non so, usare il tempo, libero o non libero, è completamente diverso, quindi voi siete sempre insieme con le altre persone, nei ristoranti, per strada, camminare. In Polonia noi siamo un po' chiusi, siamo tantissimo tempo, siamo a casa, da soli, eccetera, e a me piace essere con gli altri, per questo l'Italia mi sembra un posto più giusto per me, poi dopo, non so, voi sembrate le persone più felici, felici, quindi, non so, vedo i sorrisi in Italia, eccetera, e poi dopo in Polonia è un po' diverso. Quindi amo questo modo di vivere in Italia, ma anche le cose più, più, non so, come, stereotipiche, diciamo, quindi il cibo, non so, il sole, il caffè, sai, tutto questo. Però, ovviamente, torno in Polonia tantissimo perché ho una casa editrice qua, quindi devo essere qua anche qualche tempo, e poi dopo la mia famiglia è qua, quindi torno prestissimo. Però non potrei vivere qua 100% del tempo perché... no. E poi ti accogliamo volentieri, assolutamente, perché, insomma, è un modo di vedere l'Italia che incuriosisce anche gli italiani, perché ovviamente è sempre bello vedere come gli stranieri reinterpretano anche la nostra tradizione, come appunto nel tuo ultimo album, nel tuo ultimo singolo, in queste cover. Grazie, Natalia, un saluto a tutti i lettori di ZTL Magazine, da Natalia. Grazie mille, è stato un grande piacere, grazie.